Manu, come tutte le grandi storie, non c'è due senza tre. E questa è la puntata 2. Appunto. Non l'avevamo ancora fatta, quindi bisogna per forza mettersi comodi, perché questo è il secondo episodio dei Cropscar, migliori obiettivi del 2023. Sigla. Ragazzi, bentornati! Benvenuti, bentornati, ben sintonizzati. Sintonizzati è proprio l'argomento e il tema giusto di oggi, perché gli obiettivi sintonizzano la luce all'interno della nostra macchina fotografica. Ah, non era la puntata dei migliori microfoni? No, 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 assolutamente no. Oggi parliamo di obiettivi. Sì, innanzitutto, Manu, io vorrei cominciare ringraziando perché la puntata, la prima puntata dei Cropscar, che vi ricordo, best accessori, la trovate ovviamente sul nostro canale e su tutte le piattaforme d'ascolto, è stata anche la puntata con i maggiori ascolti di quest'anno, o quantomeno. Tra l'altro, da far concorrenza a Sanremo. Esattamente, è vero. Tra l'altro, il prossimo, non nel 2024 perché è, ma nel 2025, i Cropscar saranno a Sanremo. Eh sì, con il Remo noi. Esattamente, no, non penso un cazzo. Oggi parliamo di migliori obiettivi, una puntata complessa. Quest'anno è stato un anno, posso dire, un anno veramente scarso per gli obiettivi. Sì, è stato molto, molto deludente, devo essere sincero. Anche tra quelli che abbiamo provato in studio, non è che io abbia dei grandi ricordi indelebili, ecco. Ah, io, no, alcuni ricordi ce li ho, li vedremo oggi, però io mi sarei aspettato di più, anche perché effettivamente... Diciamo che ci sono dei sistemi che avrebbero bisogno, ecco, di qualcosa. Esattamente. E proprio neanche di più, proprio di qualcosa. Qualcosa sarebbe bello. È stato un anno con pochi annunci, è stato un anno con pochi annunci, soprattutto da brand, che forse è il momento che annuncino qualcosa di decente. Però abbiamo raccolto il meglio, quello che secondo me è più interessante. Ci tengo a fare una precisazione, per tutti coloro che le lenti cinema sono meglio di quelle foto, abbiamo escluso tutte le lenti cinema che sono uscite, perché se no, altrimenti la puntata durava 117 ore. Soprattutto non ce ne frega un cazzo di parlarvi di lenti che forse trovate in due noleggi a Milano e le usano 0,001% di voi. Esatto, benché ci siano tante novità, Disio ha fatto delle cose buone, Nisi ha fatto delle grandi lenticine, abbiamo deciso di parlare solamente dell'aspetto foto. Sì, soprattutto la roba per la massa. Sì, esatto, cose accessibili che vi potete potenzialmente acquistare e non andare a noleggiare, perché se parliamo di noleggio non finiamo mai più. Manu, io direi che le storie vanno iniziate per arrivare a una fine, quindi inizierei. Eccoci qui con la prima lente, perché secondo me quest'anno nel bene e nel male Canon è stata una dei brand che ha non fatto più obiettivi. Anche perché? Esatto, perché abbiamo evitato la pacottiglia APS-C e Super Tele che è uscita. Esatto, grande disclaimer di questa puntata, tutto quel mondo di lenti puzzotte per APS-C, tutta quella roba che viene vendita in kit, tutte quelle lenti che hanno fatto con tutte le R schifose di Canon. L'abbiamo schippate per il bene. L'abbiamo evitate ragazzi, perché siamo parlando del nulla. Però abbiamo preso invece una lente che secondo me è molto molto interessante, che è questo nuovo 10-20 F4 che Canon ha fatto, un po' per ripercorrere, te lo ricordi, il vecchio 11-24 mi sembra? No. Era un obiettivo della serie L gigantesco, enorme. Canon ha deciso di rifarlo per RF e secondo me ha fatto veramente una di quelle focali che ancora una volta mancava, che nessuno ha fatto. E Canon secondo me quest'anno, andremo a vedere anche un'altra lente molto importante, si è concentrata su fare focali diverse dal solito, ma ragionate. Non sempre, ripeto, ma sulla serie L si è impegnata. Secondo me questo è un chiaro esempio. Non ha fatto solo... Non posso dire almeno male. Assolutamente d'accordo. Non ha fatto però il solito 12-24 che fanno tutti, non ha fatto il solito 14-20 che fanno tutti, ma ha fatto un obiettivo effettivamente molto interessante, perché un 10-20 F4 è una lente... Vediamo che quel 10 lì... Non c'è, se ci pensi, tipo Sony, il massimo che ha è il 12-24 full frame. Questa è una lente full frame, è molto molto figa, è stabilizzata. Tra l'altro Canon sta stabilizzando tutta la serie L, il che ha un pregio e un difetto. Ci sta, ci sta anche, perché la stab delle sue camere fa cagare. Non è ancora puntata delle camere, quindi calmo. Però ovviamente aumenta il costo. Ah no, no. E io mi dico... Costo? Non ho le più palite idee. 9 euro. Non penso, conoscendo Canon, almeno 3.000. Costa 2.849 euro, avevo ragione. Regia, perché è finita in classifica questa lente? 2.800 euro, ma tutto a posto, Canon. Tutto a posto. Di cosa è fatta? Doro. Secondo me l'è finita qui, perché è un ultra grande angolare molto molto spinto, ed effettivamente non ci sono alternative, perché Canon, e ne parleremo dopo, non ha apertura a obiettivi RF, almeno hanno aperto forse finalmente adesso, e quindi è finita anche perché o questa, o questo. Ci sta, è una bella politica, Canon, complimenti. Io adesso controllo quanto costa ancora l'11 mm Canon L, ma io penso che costi 2.789 euro. Cioè, lo trovi usato a 1.700, eccetera, però se lo vuoi nuovo, costa ancora quella cifra lì. Quindi non è che è cambiato tanto tra l'RF e l'E. Quindi questa però, per me, è una lente molto interessante. Quindi brava Canon, e passiamo a quella dopo? Sì, direi, perché 2.800 euro, non voglio continuare ad esprimermi. Eccoci qua, parlando di obiettivi comodi, Nikon è un altro di quei brand che, secondo me, cominciassimo ad aprirci. A me spiace, perché io ho un legame affettivo con Nikon veramente molto molto grande, però che cazzo ne fa una giusta e dieci sbagliate? Cioè, non ne ha dieci sbagliate, no, perché è un'ottima lente dal punto di vista qualitativo, ma obiettivamente nel parco lenti Z serviva proprio un 135. Allora, sicuramente serviva, perché comunque Sony ce l'ha, Canon ce l'ha, mancava il Nikon, però con questa roba del plena, che è un po', nemmeno il G Master, è proprio una sorta di serie a sé, noi l'abbiamo visto dal vivo, è stupendo, è molto leggero più di quello che pensassi, eccetera. È un mattone, ma in realtà è molto leggero. Però cazzo, sono 3K di lente per un fisso. Per un 130, perché sai, fosse un 35 fisso. Io ti dico... Sì, un po' come hanno fatto con il 50, no, che è il plena... Io me lo accollo, esatto, io me lo accollo che costi così tanto, perché è una lente ultra versatile, ma un 135, 3K, è molto specifica. È veramente, cioè, una lente che o fai quello o fai quello e non c'è la via di mezzo. Allora, c'è da dire che adesso, dati alla mano, il Canon costa 2.699 euro nuovo, siamo poco lontani da questa roba qua, mentre il Sony ne costa 1.700, però è un po' più vecchio, comincia ad essere vecchiotto. Io, Nikon, parere mio, ci sono cose che hanno priorità differenti. Questa non era una priorità. Non era per niente. Infatti quando l'ho visto, tra l'altro, ho uscito insieme alla ZF, ho detto, boh, che sei, 100, tutte le focate, 135, vedete c'è il 35 mm, il 50 mm che non vengono aggiornati dall'alba dei tempi. Sì, manca un 35, ad esempio, F1.2, dato che la policy è questa qua. Ma qualsiasi cosa non 1.8. Eh, ma la policy che ha avuto sia Canon che Nikon è quella di fare gli 1.2, perché dato che hanno questo mega super sensore, vogliono sfruttarlo appena. Chiaramente, tra l'altro posso dire quante volte si scatta 1.2, letteralmente io tutti i giorni scatto 1.2, io sono lenti 1.2. Non è vero, l'unica che avevamo l'abbiamo ridata anche indietro. Non serve letteralmente a un cazzo, ragazzi, ve lo dico io. Eh, boh, non lo so, io... Queste sono le seghe da Giudafoto, le chiamo. Queste sono le seghe da Nikon che flexò il fatto di avere il sensore più grande e quindi potevo, cioè le solite stronzate. Io schipperei perché non ho voglia di spendere tempo. Per quanto sia una gran lente, eh. No, no, assolutamente. Diciamo che secondo me ci sono altre priorità. Direi anche meno male, dato che costa 3K, cioè non fosse anche la gran lente un cazzotto nel viso. Andiamo avanti, parlando di cose invece che sono dei buoni segni, buoni segnali. Tamron ha aperto finalmente a Z. Ha cominciato a riadattare lenti che faceva per Sony anche sulle Z, ha presentato quest'anno il 1750 f4. Non c'è tanto da dire, però c'è da dire anche che finalmente ci sono delle lenti un po' economiche perché Nikon ha adottato una politica strana. Ha deciso di prendere le focali Tamron e copiarle. Eh, ma lo fanno. Perché ha fatto il 2875, ha fatto il, mi sembra, anche il 1770. E Tamron ha risposto facendo il doro 1750 che sicuramente costa di meno. E per tutti coloro che... Ha anche sicuramente un'altra qualità perché questa linea di lenti di Tamron ha una qualità che se si è amatori secondo me è tanta roba. Se si ha la prima armi è tanta roba, se sei professionista e lavorate con questa roba qua ragazzi, prendetevi per il colletto e buttatevi nel primo cassonetto. E ho fatto anche la riva. C'è gente che ha Tamron che non funziona, no, e che continua a scattare però, eh. Vabbè, ma io non commento le scelte altrui. Per quanto mi riguarda, se uno lavora con una lente del genere è un pirla. Sì, diciamo che Tamron è proprio... Tamron è la via di mezzo fra i Samyang e i Sigma. Diciamo che io su Tamron, soprattutto sul 2875... La serie 1. La serie 1, ma anche la serie 2 ti posso mettere. Io ho un mio parere molto deciso perché a soli 150-200 euro di differenza... C'è il Sigma Art che per quanto mi riguarda dopo le top di tutte le case, quindi il 24-70 al livello massimo di ogni casa produttrice, è il miglior tuttofare in circolazione. E la gente si compra il 2875 per risparmiare 200 euro. Si è comprato una merda che ha delle aberrazioni e dei flare che fanno spavento. Sì, per non parlare delle tonalità verdi che ha quella lente allucinante. Io dico, molto interessante perché diciamo che uno che ha una Z6.2, una Z7.2... Perché se avete una Z8 e montate questo... Siete da prendere la sberda nel viso. Non vi dico... Basta. Siete stronzi, lo dico io. No, io volevo... Non lo dico. Però sicuramente per chi ha Z6.2, Z7.2, chi ha avuto la sfiga di aver comprato una Z5... Esatto, stavo per dire. Questa è proprio la lente da Z5. Esatto, questa lente qui è perfetta. Va benissimo, spendete poco. Avete una focale ultra versatile. Alla fine tutto sommato ci sta. Chiaramente se mi dite, Manu, per lavorare mi consigli questa roba? E vi dico, scappare a gambe elevate immediata subito. Immediata subito? Eh, ma l'ho inventato adesso e lo faccio. Comunque stiamo parlando di una sberla da 900 euro. Sì, nuova di pacca da rivenditore terza. Una roba che... Sì, ne vale secondo me, se spendete più di 750 su sta lente qua, siete da prendere a sberle. Ma sì, ma infatti è una lente che si troverà già più o meno a questa cifra qua. Comunque è un buon segno che finalmente anche Nikon abbia delle terze parti. Esatto. Cioè, questa secondo me è la parte importante. Tra l'altro, non so se è menzionata in questa classifica, però la vedo qui nel nostro... Il 17... Lo oserei chiamare database. Che si chiama Google. E il 35-150 di Tamron. No, non è nella classifica mai uscito quest'anno. È veramente una merda. Non l'abbiamo messo dentro perché pesa una madonna. Noi l'abbiamo avuto in studio per un periodo, per motivi che non staremmo qui a indicare. Ed è una lente veramente schifosa. Allora, secondo me c'è un problema. Io continuo a sostenere che se uno zoom parte dai 35 e superi 100 c'è già un problema nel concetto. Andremo poi a vedere chi l'ha fatto bene, questo concetto. Però questo ha un enorme problema. E io qua parlo a Tamron. Tamron, tanto che ci stai seguendo, proprio il CEO di Tamron. Eh, ma è lì davanti? Lo vedo, eh? Sì, sì, sì. Perché F2-2.8? Fai un 2.8 costante. Sei uno stronzo. Ma quanto costa già 2.000 euro? Che me lo fai costare 2.500? Cosa cazzo cambia? Ma secondo me sarebbe costato di meno. Tra l'altro. Cioè, questa non l'ho mai capita. Comunque il problema di questa lente è che sì, per carità, è il tutto fare. Non è tutto fare, perché pari da 35, quindi non è tutto fare. E se vuoi il 35, ti conviene più avere un 70-200 e un 35 che avere questa bestia grossa così che è inquietante. Io continuo a preferire il 24-105 classico, che fa molto di più e molto meglio. Più che altro, ragazzi, è pesante e soprattutto esce fuori. Cioè, ha tutti i difetti di un tele in nessuna praticità di un tutto fare che dovrebbe essere un po' più compatto. Cioè, non è né uno né l'altro. È veramente una merda. Sì, non ho però... Questa scelta di Tamron, tra l'altro, shout out a Samyang che l'ha copiato. Eh, ma tra di loro lo fanno, perché secondo me comprano dallo stesso rivenditore. Quindi vanno lì... Cosa c'è oggi? Oggi abbiamo questo 35-150. Vi serve un po' come quando... Come quel 20... Esatto. È tipo il 24-70. Il 24-70 di Samyang che è aberrante. E il Sigma Art, che è quello di Laika, e lo ha stessa lente. È vero, il Sigma Art stesso di Laika, questa secondo me è veramente... È la stessa identica lente, perché se le prendete, guardate il gruppo di lamelle, è identico. È sovrapponibile, vuol dire che è la stessa lente. È incredibile questa roba. Tanto è l'unica lente Laika made in Japan. Chissà come va. Chissà perché. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Eccolo, eccolo, eccolo quello di cui parlavo. Il bestione, il 24-105 F2 E8 di Canon. Questa è una bella chicca. Qui, e tornando al discorso del 10-20, Canon ha fatto il compito e l'ha fatto bene. Ha guardato quello che la gente voleva e ha detto, che cazzo vuole la gente? Un 24-105 F2 E8. E ha costruito il tuttofare perfetto. Questo è il tuttofare perfetto. Questa roba qui io me la immagino per un matrimonialista è la lente definitiva. Per me, questa roba qua, io come dissi già nella puntata dove l'abbiamo parlato, se Canon ha fatto questo obiettivo, che, ripeto, costa 3k e mezzo. Ok, però è un obiettivo che ti permette seriamente di non comprare altre lenti. Cioè, per me questo, il 70-200, tu hai finito. Tu hai tutto quello che ti serve. Sì, sì, potenzialmente ti permette di non comprare. Ad esempio, io che non uso lenti oltre il 90, per me potenzialmente potrebbe essere l'unica lente. Invece di comprarmi tanti, perché è chiaro, è un approccio diverso. Certo, certo. Tutto quello che volete, ma per chi fa un tipo di fotografia dove portarsi dietro 3-4 lenti è uno sbatti, tipo un matrimonialista. Questa lente qui è perfetta. Questa vorrei provarla e non vi nasconderò il fatto che mi sono già mosso per averla, perché voglio provarla. Con cosa? Con che camera? Con, boom, non la R6 sicuramente, magari con la R5C. Bella merda. Vedo proprio che ti piace farti del male. Sì, sì, sì. La cosa però positiva, e che voglio assolutamente citare, è che questa lente qua non solo è un 24-105 così, ma è anche power zoom, perché si può montare un blocco esterno che la rende power zoom. E questa roba qua, cazzo. È veramente un bel prodotto. Questo è uno di quegli obiettivi che ti fa scegliere un sistema. L'ho detto e lo ripeto. Sì, anche se costa così tanto, però è una di quelle lenti che costa così tanto... Giustificatamente. Esatto. E diventa una lente anche aspirazionale. Una lente che tu dici, io voglio un giorno comprarmi quella lente lì di Canon. Sì, 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 sì. Io sono super contento. Per me questa è una di quelle mosse che andrebbe copiata. Io mi auguro veramente, dato che ho letto già dei rumors che Sony sta lavorando a un 28-200 alla diaframma variabile. Che cazzo fanno? Questa è una di quelle lenti che i brand devono prendere e dire, cazzo copiamola. Questa è una di quelle lenti che non serve avere un prezzo. Chi se ne frega se costa 3.700 euro. Ci sono dei prodotti, camera, obiettivi soprattutto, dove quando ci sono certe caratteristiche il prezzo è in secondo piano. Esattamente. E questa è una di quelle robe lì. La trovo molto più sensata del 28-70 che vedo qui, che è bellissimo l'F2, ma è così. Ed è un 28-70. Pesa 3 kg. Questo qua, il 28-70 F2 di Canon. No, no, però dico, è un 28-70, cioè non ha questa escursione costante a 2.8. Esatto, e soprattutto questa qua è meglio distribuita, lo zoom è interno, quel 28-70 lì pesa 3 kg. Anche il supporto sotto per agganciarlo ai tre piedi. Esatto, esatto. Per me è tutto perfetto. Questo è veramente un bel prodotto. Il compito eseguito per i professionisti, perché ovviamente una lente da 3.700 euro è per i professionisti, però per me, e ne parlo da società in questo momento, una lente del genere risolverebbe enormi cazzi. Ah no, no, potrebbe tranquillamente essere la lente che porti su ogni lavoro e magari, per chi ha anche, magari una piccola attività, piuttosto che fa il matrimonialista, piuttosto che fa quei lavori dove capita che ti hai bisogno di più lunghezze focale, devi girare con lo zaino pieno di roba, tu parti con questa ciaone. Cioè sicuramente se dovessi pensare di dover comprare un 24-70 e, non lo so, una lente che superi 70, tipo 70-200, no, perché è già diverso. Però trovare ad esempio un obiettivo in mezzo, tipo prendermi un 85, un 100 perché mi serve essere più lunghi. A quel punto prendi questo. A quel punto lì con un obiettivo ne copri due e più o meno vai a spendere la stessa cifra. E bel lavoro Canon, questo è veramente una gran lente. Andiamo avanti perché parlando invece di tutto fare che, eh, potevano essere cose ma non sono state cose. Veramente tremendo questo. Allora io devo dire che, dirò un pregio e un difetto. Secondo me questa lente qua non è male perché un 20-70 è super interessante a livello di focale, perché 20 mm effettivamente recuperi molto rispetto a un 24-70, è molto piccolo. Secondo me Sony ha fatto un bel pacchetto e la lente è veramente bella. Ha due problemi. Il primo problema è che secondo me non c'era bisogno di farla. E secondo cosa è che è F4. Secondo me questa lente qua a 2.8 avrebbe avuto molto più successo, certo. Diciamo che a 2.8 questa sarebbe diventata la lente innanzitutto di tutti i content creator. Tutti. Dal primo all'ultimo. Che usano Sony. Perché il motivo è implicito. A me la cosa che mi è piaciuta di questa lente qui, che ha conti fatti, è una lente kit. È una lente, la classica lente che ti vendono in bundle. Infatti poi c'è stato il bundle, mi pare, con la 7.4. Non lo so se sia in bundle. Non credo che l'abbiamo mai messa in bundle. Secondo me io mi ricordo di averla vista. Magari era un rivenditore terzo, adesso non ricordo. Forse hanno fatto delle cose, ma non è un bundle. Purtroppo ecco, io quello che dissi è, fosse la lente di bundle... Ecco, e lo dissi anch'io. Forse la lente di bundle sarebbe un'ottima lente. Diciamo che se io mi devo comprare a 1.400 euro un 20-70, perché voglio tutto fare e non ho esigenze legate al 20 mm, a quel punto lì, torniamo al discorso di prima. C'è il Sigma Art, il 24-70, che qualitativamente è superiore, secondo me, e costa la metà. Poco più della metà. Sì, 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 e banalmente invece se non sei un professionista, ma sei un content creator, dove, passatemi il termine, forse puoi droppare un po' sulla qualità per magari avere un microfono, eccetera, a quel punto lì, e lo vedo qua, c'è il 20-40 di Tamron, che ti copre le focali che ti servono tanto. Sì, se tanto fai tutto a 20 mm. Ed è un 2-8. Sì, sì, questo per il content creator, essendo F4, fai fatica ad utilizzarlo, perché o sai illuminare, se fai il blogger sei fottuto. Se fai YouTube, quindi con dei piazzati, ma non sei bravo ad illuminare come letteralmente il 90% di chi fa YouTube, ma non per colpe. No, no, perché non è il suo compito. Esatto, e ovviamente ti troverai sempre difficoltati, manca quello sfocato del 2-8. Non è una lente adatta a quella roba lì. Ed è un peccato, perché 2-8, secondo me, avrebbe avuto veramente un gran successo. L'avremmo vista ovunque. Io aggiungo invece una cosa. Secondo me questa lente qua, per alcuni casi, può essere interessante per magari chi fa escursione, vuole una lente un po' più leggera, con un'escursione focale un po' più ampia, eccetera. Per il professionista, invece, secondo me, quando poi comincia a comprare più obiettivi, il 16-35 che è uscito l'anno scorso, l'F4 Power Zoom, è molto più interessante. Assolutamente. Anche perché, ripeto, il 20-70 copre delle focali, a parte il 20, che non servono a un cazzo, perché preferirò sempre il 24-70-2-8. È vero, forse è un po' più pesante, però comunque ha qualità sicuramente migliore ed è più utile. Quindi a questo punto qua, un professionista si compra o il 16-35 o il 20 fisso di Sony, che rimane una mina atomica ed è 1.8, oppure si compra il 16-35 G Master e il 24-70 G Master. Cioè questa è una lente che, se fosse stata 2.8, ti avrei detto ancora, eh, ma così... Così non è né carne né pesce. È una lente strana. Infatti anche a recensirla è stato abbastanza difficile capire come trattare un prodotto così. Perché è un cibo. Assolutamente d'accordo. Peccato, peccato perché a me poteva essere una di quelle lenti alla Canon. Cioè un po' ambiziosa, che costava anche 2.000 euro, ma ti dava quel tipo in più che dici compro il 24-70 o compro questo. Anche perché non esiste un G, perché togliendo il G Master, la serie G di Sony 2.8 così. Cioè almeno per la PSC hanno fatto il 16-50, che è 2.8, questo non lo so. Boh, potevano fare di più, secondo me non l'hanno fatto ed è un peccato. Andiamo avanti con... Ecco, queste sono le lenti matte che abbiamo inserito. Belline. La OU ha fatto i Problens nuovi, questi sono quelli veramente pro, sono veramente grossi, questa è una lente da noleggio. Però secondo me la cosa figa di questi qua è che ha fatto tutto un sistema di piegature che permette effettivamente di utilizzare la lente in diversi contesti. Questo è uno di quegli obiettivi che non vi comprerete magari, però sapere che esiste una noleggio rispetto alla OU a classico nostro può fare la differenza. Eh no, ma ci sono tanti. Io ho tante volte cosiddetto la OU, mi sono trovato in difficoltà, tali per cui con una lente del genere io le avrei completamente bypassate. Secondo me questo sistema qui è l'evoluzione di un prodotto che in realtà ha una vita molto semplice, serve per fare quella roba lì, basta, non ci fai nient'altro ed evolverlo è molto difficile anche perché la OU a quello classico, chiamiamolo così, è una lente che come fai a farla diventare migliore, come fai a evolverla, è un prodotto così di nicchia. Sì, hanno fatto la versione periscopica, questo qua però ha il diaframma AT8 al posto che T24 di partenza, cambia già un po' per fare determinate cose. Assolutamente, però puoi lavorare giusto su quella roba lì, poi dopo così. Invece qui, a livello proprio anche di praticità, si aprono tante porte che permettono di fare della bella roba. E quindi niente, questo l'abbiamo messo perché secondo me è un buon segnale da parte di l'Oua che continua a investire in una lente che tutto sommato è unica. Cioè questo è, se volete questo tipo di lente qua, vi comprate questa. Cioè questa è fine, però interessante, molto interessante. Andiamo avanti con i 6G35 G Master Mark II. Molto bello, una lente figa. Questa per me è una delle lenti che vorrei comprare. Il solito basic G Master, quindi qualità perfetta, autofocus perfetto. Sì sì, questo è veramente una lente perfetta. Non c'è, non c'è niente da dire. Personale parere mio, come di tutti i G Master, pecca un po' di personalità. Sì, se volete qualcosa di un po' più personale che costa di meno, c'è il 16-28 di Sigma, sempre 2-8, un po' più piccolino. Questo a me piace. Cioè per me, io sono un grande amante del 24-70 G Master II perché ti fa portare a casa il lavoro perfetto. Sì sì, no, assolutamente. e questo semplicemente è il gran compito di casa Sony che finalmente quest'anno ha finito la triade perché adesso abbiamo il 16-35-2, il 70-200 Mark II e il 24-70 Mark II. Se volete una lente perfetta, questo è la triade da comprare. Se volete, secondo me, e l'abbiamo inserito, adesso lo vedremo, una triade invece un po' più imperfetta ma secondo me con un po' più di carattere, c'è il 16-28, 24-70, il 70-200 di Sigma che anche loro finalmente hanno chiuso la triade quest'anno e a mio avviso sicuramente spendete molto di meno, anzi potenzialmente risparmiate anche quasi una lente in più senza ombra di dubbio. Sì, e forse anche qualcosa di più. E avete sicuramente qualcosa di diverso, fatto molto bene tutto, sono tipi di qualità e di immagine differenze. No, no, assolutamente. Diciamo che comprendo perfettamente la filosofia dei G Master e la mia non è una critica, è un gusto personale. Assolutamente d'accordo. Se volete il meglio del meglio, questo è il meglio del meglio. Andiamo avanti, eccolo appunto, citandolo, 70-200 di Sigma. Questa è proprio una bella lente. Hanno fatto tutto quello che andava fatto, l'hanno fatto bene e a mio avviso, avendo visto anche un po' di test in giro, al momento dovessi comprare un 70-200 per Sony rinuncerei al G Master Mark II per questo qua. Costa molto meno e ho visto i vari test di laboratorio, quindi proprio quelli beceri del cazzo proprio carta alla mano, eccetera. Meno aberrazioni cromatiche, molto pulito, stesso tipo di portabilità e peso. A mio avviso qua Sigma ha fatto il compito, ha fatto bene. Questa è una gran lente. Questo, se volete comprare 70-200 adesso, comprate questo. Nuovo, di pacca, chi se ne frega. È un bel prodotto che... Guarda, l'unica cosa che mi spiego è di non aver fatto il video perché c'avevo in studio, vorrei farvi il video perché merita veramente tanto di essere comprato. Sigma qui ha fatto un gran compito e soprattutto ha fatto le cose giuste che nel 24-70 di Sigma mancano, cioè il diaframma controllabile, tutte queste robe qui. Qui è tutto perfetto. Brava Sigma, questo è il 70-200 di quest'anno per quanto mi riguarda. Sì, a mani bassa. Tra l'altro esiste anche per innesto L, quindi se avete una S5 Mark II, una Leica SL2S, questo potrebbe essere. Per quanto se comprate lenti Sigma e montate su una Leica siete degli stronzi. Pienamente d'accordo. Pienamente d'accordo. Però lui è veramente un grande obiettivo. Bravi, bravi, bravi. Eccoci qua. Manu, ci tocca. Questo l'abbiamo comprato. 51.4 G Master di Sony. Una lente, posso definirla, anonima? Posso definirla però perfetta, cazzo. Come tutti i G Master di Sony. Perfetti ma anonimi. Una lama. A me fa godere come poche cose al mondo. Ma no, ma che sia perfetto. So esattamente quanto ti già detto. Peccato per l'1 e 2 di Sony. Ah, ecco, vorrei approfittare di questa pubblica piazza per fare una roba. Quando abbiamo fatto questo passaggio, ho pubblicato il video dove facciamo il passaggio dove lo dicevo. Sotto i commenti qualcuno mi fa. Simone, il problema non è l'obiettivo perché il mio è perfetto ma è il vostro. Ragazzi, io ne ho provati tre. Ho parlato con Sony direttamente che conosce il problema di quella cazzo di lente. Il problema è la lente. No, non era l'obiettivo, era la lente che è una merda. Poi se voi non vi rendete conto che fate le clip fuori fuoco non è un nostro problema. La lente ha dei problemi di front belt focus in video devastanti. In foto è perfetta, perfetta. Non ho detto nulla ma in video se voi vi avvicinate e vi allontanate tra l'altro ci sono i video pubblici dei miei test. Tra l'altro sul mio canale YouTube c'è un video in cui ho registrato un parlato col 50 1.2 quindi senza neanche muovermi chissà quanto è terrificante l'effetto. Quando l'ho visto era da mani nei capelli e lì abbiamo capito che non è cosa solo. E invece il 50 1.4 è perfetto e secondo me è il 50 da comprare se avete Sony e volete spendere perché questo è un obiettivo che costa. Purtroppo e qui lo dico Sony non ha un 50 1.8 decente quindi se volete un 50 mm o questo date di terza parte. A me spiace molto che Sony stia abbandonando perché questo sta facendo tutta quella serie 1.8 neanche G quella serie economica che secondo me è validissima io banalmente preferisco quel 35 al G Master si confermo ed è un peccato perché è veramente tanta roba e secondo me evolverla un pochino potrebbe essere una bella strada. Sì la mia paura è che Sony abbia deciso di fare questa roba della serie non G e abbia detto la ricchiudiamo alla PSC perché effettivamente l'11 mm f4 non è G ed è uscito hanno dimenticato che hanno fatto delle grandi lenti perché secondo me il 35 e l'85 sono delle grandi lenti anche secondo me costano poco sono fighe avvicinano tanto al brand c'è da dire che Sony ha talmente tante terze parti che secondo me il ragionamento fatto a tavolino è stato concentriamoci su fare le lenti fighe pro e lasciamo le terze parti la possibilità di fare qualunque cosa condivisibile o meno secondo me non condivisibile anche secondo me perché al di là io ti cito 35 85 di Sony che hai detto tu 1.8 terze parti a me non ne viene in mente una con quelle dimensioni e con quelle prestazioni ah no perché il Samyang è tremendo il Sigmar è grosso come un'astronave e l'ha fatta Viltrox ma raga peggio mi sento anche perché il 50 Viltrox è da denuncia penale a livello di autofocus fa vomitare e basta questo è quindi peccato perché quella serie lì andrebbe rimessa in piedi andrebbe riaggiornata ovviamente soprattutto l'85 che è molto lento a livello di autofocus in video però costava poco ci sono lenti da 500 euro che ti compri volentieri io di 85 di 35 dalle vendite di Amazon ne continuo a tirar fuori un botto no no ma è una lente che si continua anche ad utilizzare nonostante abbiamo alternative ben più ma sì io al 35 continuo ad essere la mia lente da YouTube cascasse la terra in cielo cioè grande lente peccato per essere stata dimenticata cascasse la terra in cielo eh praticamente tu prendi il cielo lo giri e fa sprazzi ogni tanto il giovedì altra lente Sony e qui io io qui applaudo per me questa è una gran lente sì perché è un è un 70-200 piccolo piccolo effettivamente è molto piccolo e per chi fa hiking sì hiking per chi per chi fa cose molto scomode ha bisogno di risparmiare su ogni centimetro della propria vita addirittura al punto da non portarsi le mutande ecco questa lente è perfetta soprattutto mi è piaciuto tantissimo l'aspetto macro il fatto che abbiano aggiunto quella roba lì io continuo a dire che questa va secondo me la lente è perfetta per i foto amatori che vogliono un 70-200 che fa un po' tutto e fare le foto ai fiori senza sbattimenti questo è l'obiettivo da comprarvi per forza mi spiace e qui lo dico che Sony non abbia fatto la stessa cosa quest'anno con un 24-105 rinnovando quello che hanno che è tremendo per quanto sia comodo fa vomitare vedere una serie 2 di quel 24-105 spero sia una cosa da 2024 perché ce n'è bisogno di rinnovarlo questo è il modo giusto di rinnovarlo perfetto compatto rapido f4 tutto perfetto brava Sony questo è proprio venuto bene costa un po' costa un po' però ragazzi è una lente compatta così o la pagate o non è che possono regalarvi un cazzo sennò compratevi il Mark 1 che va bene nel 90% dei casi ragazzi questa era la nostra selezione ovviamente non abbiamo selezionato o non abbiamo parlato di tutto quanto quello che è uscito perché se non staremo qui tre giorni a parlare di lenti avremmo potuto parlare di Fuji se avesse fatto uscire delle lenti interessanti avremmo potuto parlare di Panasonic se avesse fatto uscire delle lenti interessanti purtroppo Panasonic quest'anno a parte il 14-24 Panasonic ha droppato la bomba a inizio gennaio e ha detto basta esatto quindi Manu cosa vogliamo fare? secondo me andare a indicare quella che è stata la lente peggiore viene difficile viene molto difficile uno perché abbiamo fatto una selezione secondo noi di un best of o di alcune note particolarmente negative però su una lente secondo me è molto 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 complesso esatto perché ci sono tanti altri prodotti che per quanto mi riguarda sono sicuramente più inferiori a tutto ciò che abbiamo visto finora che però non ha neanche senso mettere in questa classifica e soprattutto bisogna tenere conto tantissimo della filosofia dei brand per quanto riguarda le scelte per quanto riguarda tutto il parco ottico perché se sulle camere si può ragionare in maniera già un pochino più schematica sulle lenti è molto 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 difficile e secondo me dopo aver premiato quella che è stata secondo noi la migliore lente di quest'anno potremmo tirare le orecchie sarò molto elegante a quelli che sono stati secondo noi i brand che hanno un pochino peccato proprio nella filosofia di brand e non hanno fatto ciò che i propri utilizzatori sarebbero aspettati oppure chi semplicemente aveva intenzione di avvicinarsi al brand ma semplicemente non l'ha fatto perché alcune cose non sono accadute esatto quindi prima di fare questo discorso premiamo il vincitore di quest'anno secondo noi vince i crop scar miglior obiettivo dell'anno per il 2023 proprio lui Canon con il 24-105 f 2.8 L stabilizzato power zoom applausi casino sigla bravi Canon finalmente abbiamo potuto dire qualcosa di positivo brava Canon veramente una grandissima quella lì è veramente una lente della madonna quella è una lente che mi fa invidiare il sistema RF io non lo invidio comunque sì hanno fatto veramente una gran lente bravi tutti abbiamo parlato prima l'abbiamo osannata sufficientemente quindi questo premio aspetta a voi Canon quest'anno il 2024 che si sta avvicinando è l'anno in cui finalmente torneremo a parlare con voi io non credo però intanto questo premio è disponibile quando volete venire a ritirare sapete che sapete d'oro vero sì esattamente pesa un sacco io sono fuori una settimana scorsa in palestra sono andato fortissimo parliamo invece del peggio come ha detto Manu il discorso è molto ampio non abbiamo deciso di dare il peggio a un brand a un obiettivo anche se è 35 105 di Tamron sì però lì è sparare proprio sulla croce rossa sì abbiamo deciso di dare il peggiore il CropScar Shit Edition a due brand tre sì diciamo che tre tre brand e prima di dirvi chi sono diciamo il perché il discorso che abbiamo fatto è tante cose belle quest'anno sono uscite però ci sarebbero delle cose da andare a colmare prima di droppare delle cannonate e questi tre brand sono Canon Nikon e Panasonic e secondo me la premiazione di questa lente di Canon è l'esatto esempio di questa cosa che dice Simo esatto nel senso che il 24-105 è una lente incredibile e va benissimo farla ma dall'altra parte il sistema RF ha delle mancanze enormi mancano i 35 professionali mancano ancora delle lenti 1.4 1.2 qualsiasi cosa che vogliono fare veramente pro il 35 è una di quelle perché cazzo non può non avere non avere un 35 fisso è veramente una lacuna grave e la stessa cosa vale per Nikon tu non mi puoi fare un plena 135 f1.8 da 3k e non avere un 35 professionale sì perché io tra l'altro quel 35 per la serie Z io l'ho usato per parecchio tempo è una buona lente sì però per me è in linea con quel 35 1.8 di Sony di cui parlavamo che va benissimo che esista ma non può non esistere con una Z8 una Z9 uscite un 35 che valga la pena dire io mi compro il 35 da 2k e godo non devo vedere la gente con la Z7.2 la Z8 adattare il cazzo di 35 art per reflex questa cosa qua per quanto mi riguarda sta secondo me è la rovina di Canon e Nikon assolutamente questa cosa dell'adattatore che l'hanno menata e continuano a menarlo e chi lo utilizza continua a menarti le palle con questa cosa qua eh ma io posso adattare sì sei speso 3000 euro per una camera e devi usarle lenti di 20 anni fa perché non ci sono quelle nuove sì a questo punto dell'epoca in cui ci troviamo è un problema perché quella roba lì era figa all'inizio che della serie ok ho già questa roba qui semplicemente aiuto la transizione aiuto la transizione ma se poi questa cosa qua a distanza di ormai tanti anni eh sì diventa la tua leva per non fare un cazzo e c'è un problema questa si chiama non voler fare sì tra l'altro nota dolente aggiuntiva a Canon che Canon ha riaperto forse adesso alle terze parti la possibilità di fare ottiche il che vuol dire capire se le terze parti ne hanno voglia di farlo e soprattutto tornare sui propri passi che a distanza di tanti anni dopo che tante persone tanti professionisti hanno creduto nel tuo sistema vuol dire allora mi prendi per il culo eh sì allora tu lo potevi far fin dall'inizio semplicemente non hai voluto l'ultimo brand che invece citiamo in parte è Lumix perché quest'anno sono mancate tante lenti Canonata iniziale incredibile con l'S5 II e poi sì io spero che il prossimo anno lanceranno una S1 Mark II e poi cominciano a droppare lenti specie perché il loro 24-70 è vecchissimo è arrivato oggi in studio per un video che deve uscire riga pesa 100 tonnellate e mancano tante lenti banalmente non ci sono cioè a parte il 51-4 però Panasonic secondo me passa un pochino più in secondo piano rispetto alle altre due anche perché Panasonic quest'anno ha iniziato un nuovo percorso è tipo un tossico che si è disintossicato quindi all'inizio non puoi e soprattutto Panasonic fa parte di un'alleanza l'alleanza L che indubbiamente permette grazie a Sigma di avere tutte le lenti che mancano perché tutte le 1.4 Sigma ce le ha a tutte le art a tutte le sport a tutti i 70-200 i tele perché non comprarono un S5-2 con una bella lente Leica esatto a Leica a DJI che è entrata nell'alleanza L una bella lente M adattata con l'adattatore L per forza diciamo che insomma secondo me c'è da dire che avere l'alleanza L gli salva un po' il culo detto in maniera molto schietta anche perché se non ci fosse non avrebbero letteralmente mezza lente in broccia quindi in realtà io mi auguro che comincino a fare soprattutto la serie Pro perché il 50 è l'unico che hanno un E4 della serie S figa e che comincino a fare un po' di lenti certo non è mai stato da Panasonic avere tante lenti proprio a livello di identità di brand e c'è da dire che Panasonic è anche un brand più piccolo rispetto a Canon Nikon e Sony ha anche meno potenza di fuoco e qui arriva l'alleanza L per carità però fare un piccolo gesto verso creare almeno un parco lenti base ci vuole ecco non abbiamo la pretesa che Lumix copi Canon o Sony perché non hanno ripeto la stessa quantità di soldi disponibili per fare tutte queste lenti però almeno le basi 24-70 70-200 e appunto i fissi base averli anche nella serie 1.4 devi farlo per rappresentanza più che altro questo è quindi questo è il nostro crop del crop scar delle cose più negative ci tenevamo a fare i complimenti anche a Fuji perché è veramente difficile non droppare un cazzo per un anno intero si Fuji quest'anno a parte due lenti forse sono uscite si boh non mi ricordo più però vabbè diciamo che non ha ci sono tante cose ma l'XH2S sai ha preso tempo e detto questo ragazzi si sta avvicinando si sta avvicinando l'ultima puntata io non vedo l'ora l'ultima puntata la più attesa io forse vengo con la muta da sub io vengo invece con un fucile e un giubbotto antiproiettili perché non solo spareremo ma verremo sparati probabilmente ci sono tante cose quest'anno da dire della best camera e peggior camera dell'anno però posso dire quest'anno sono uscite delle belle chicche assolutamente ma anche dei bei merdoni eh sì guardate ne ho almeno tre sulla punta della lingua ragazzi che fatica girare queste puntate più che altro che fatica gli obiettivi sono veramente una rottura di coglioni ragazzi voi che fate le recensioni degli obiettivi di 40 minuti parlando del nulla come fate? mi insegnate per cortesia venite qui in studio da noi gli offro un caffè ci sediamo facciamo quello che volete li porto anche fuori a cena e mi insegnate perché è veramente una rottura di palle parlare di lenti Ricky Delipauli ti aspettiamo quando vuoi sederti qui no non stavo pensando stavo pensando a chi? Pro Miralas i miei fratelli Damiano e Simone veramente più potenti della terra io non riesco eh nemmeno io però c'è chi lo fa magari un giorno li avremo ospiti qui a messa fuori speriamo ragazzi detto questo la puntata finisce qui grazie a tutti quanti per continuare a seguirci l'anno è giunto quasi al termine ma noi aspettiamo di sapere quali sono i vostri crop scar fateci sapere nei commenti qual è la vostra lente preferita dell'anno qual è stata la vostra lente preferita che avete acquistato quest'anno ricordatevi parliamo di lenti uscite nel 2023 non scrivete è la mia preferita il 2470 G Master 2 che è uscita l'anno scorso e basta Canon qui c'è il premio quando volete venire qui c'è anche una sedia dove poter fare una bellissima intervista parlare della della V10 di Canon ad esempio che secondo me potrebbe essere uno spoiler secondo me io chiuderei questa puntata perché noi dobbiamo riunirci in gran consiglio perché è tosta ne ho già tirata fuori una ce ne sono altre ce ne sono tante ragazzi ci vediamo settimana prossima con l'ultima puntata e poi purtroppo Messa Fuoco andrà in vacanza e ci rivedremo il prossimo anno e ci vedremo nel 2024 con tante no non è vero parleremo sempre delle solite cazzate insulteremo tutti quanti e bella lì eccoci qui ciao a tutti ragazzi buona serata buona giornata e buona settimana e buona vita magari non ci vogliono più seguire dopo questa puntata ci sta ciao li capisco grazie a tutti Grazie a tutti.